Stavo bene, ho gestito assieme a Diego la prima parte di Salvatore, ho visto un piccolo contornamento da parte di Diego, allora ne ho approfittato, sono riuscito ad andare avanti da solo. Sì, ho preso anche la tua professione, veramente noi abbiamo seguito in auto, abbiamo fatto quasi fatica a rimanere con te. Bellissima l'arrivata dei paesaggi, però impegnativa. C'è uno storico dell'altro da Roma, cosa l'avevo trovato di incertezza, ma probabilmente non ce l'ha di nuovo per nessuno, però io sono contento della mia gara perché ho fatto il mio miglior tempo di sempre, e con gli anni passano, è sempre più duro allenarsi e arrivare davanti. Io l'ho vinta cinque anni con la gara qua, oggi ho tentato per cinque chilometri da stare alla ruota di Stefano, poi ha ingranato un'altra marcia, io sono rimasto con il mio passo e è andata benissimo comunque così, perché l'Anfo Baremma è come una maratona. non è importante arrivare prima, ma guardare a qualche tempo, perché comunque le società organizzatrici come la vostra ce ne fa un po' per la provincia di Brescia, bravi. sempre l'Anfo Baremma, che è uno storico rappresentante anche dello Sporlo a Sabino, ad alto livello. non fatemi perdere i gara... dai! dai Giorgio! 5-7! 5-7! 5-6! 5-2! 5-2! 5-2! 2-0-4! 1-2-0-4! 5-2-0-4! 5-2! 5-2! ... 6-7! 4-5! che si è fatto con lo zorzi?